Caos scolastico nel comune di Gerace, dove mercoledì una manifestazione organizzata da alcuni genitori protesterà per il presunto ufficiale trasferimento dei bambini da Gerace e Venea ad Antonimia Tre Arie. Tutto ciò considerando che la distanza di cui si parla è pari a 20 km e quindi circa 40 minuti di macchina da fare tutti i giorni, senza considerare che si tratta di un territorio a grande rischio idrogeologico a cui i bambini sarebbero giornalmente sottoposti. Senza tenere conto poi, tra le altre cose, che si tratta di una scuola dell'infanzia, diritto di ogni giovane cittadino, ma soprattutto diritto di ogni genitore, lavoratore e non. Le famiglie di Gerace si sono viste messe con le spalle al muro proprio a settembre, quando a brevissimo ogni scuola riaprirà e si procederà con le lezioni. Ma la questione non sembra essere una novità per gli abitanti del luogo. Infatti già in passato Gerace e Venea era stata vittima di decisioni discutibili che hanno portato la comunità a protestare pubblicamente, come avverrà mercoledì, quando insieme ai genitori si unirà anche il primo cittadino di Gerace, Giuseppe Pezzimenti, con il quale i genitori discuteranno e parleranno di alcune proposte utili a far evitare il trasferimento dei bambini e quindi anche la chiusura della scuola dell'infanzia sul territorio.